E' stato un anno scolastico molto intenso per la scuola primaria Mascarucci di Lucrezia, durante il quale i ragazzi hanno portato avanti un progetto di educazione musicale in collaborazione con gli esperti dell'Istituto Armonia di Urbino. Il progetto è nato con l'intenzione di promuovere la musica come espressione di linguaggio universale che accomuna e unisce e si è concluso sabato scorso con uno spettacolo diviso in due parti che ha visto esibirsi un totale di 251 alunni. Le classi prime e seconde hanno lavorato in modo particolare sull'ascolto, sul ritmo e sul canto accompagnandosi con l'uso di semplici strumenti creati dai bambini stessi. Le classi terze e quarte hanno invece iniziato lo studio del flauto utilizzando anche altri strumenti quali tubi sonori, xilofoni, metallofoni, percussioni, tamburelli e chitarre mentre per le scenografie fondamentale è stato il lavoro di un comitato di genitori delle varie classi. Grazie!